questa è la verità per me io non so se sia invernale o estivo per me il pranzo di estivo ad agosto il 15 di agosto ha una bella parmigiana di melanzane mettiamo due foglioli di basilico e il sale poi aggiungiamo il sale usiamo la farina di iso per le melanzane vediamo le melanzane, vediamo qua su rientra, vediamo se è pronto è stanche, è stanza, è stanza, è di albina faccio il lavoro che adesso si fa Anche se ci sono dei tuoi fei, dopo tutti i zagli su, dopo l'angelo, poi a un nuovo, e adesso continuiamo uno strato, sempre in questo modo, i nostri melanzani. e ora 35 minuti ed ecco a voi che apposta la nostra parmigiana questa è la verità per me, io non so se sia invernale o estivo ma per me il pranzo di estivo ad agosto il 15 di agosto ha una bella parmigiana di melanzane sì, tortillette